Burlani, oggi su Minecraft potremo viaggiare nel tempo, perché il mio team di sviluppo di Minecraft ha fatto un lavoro, ragazzi, fuori di testa, che adesso vi farò vedere piano piano. Io vi dico solo che ho un item che si chiama analizzatore linee temporali, ma è meglio che ve lo faccio vedere perché è qualcosa di veramente assurdo. Direi che possiamo iniziare, io direi di fare un bello start, Nico, io ho un piccolo kit base e una piccola bistecchina, vedi? Non mi interessa nulla. Allora, io devo star fermo due minuti perché chiaramente ti devo lasciare il tempo per scappare, ma tanto ti posso venire a trovare subito col mio analizzatore di linee temporali. Sì, perché ti tipi dove sono io adesso, dai, di queste cose, dai. Ma più o meno diciamo che potrò vedere una tua controfigura che mi mostra cosa hai fatto in quella linea temporale. E ora vi mostrerò, guardate, appena passano i 30 secondi si creerà la prima linea che mi mostrerà quello che ha fatto Nico in questa zona. Guardate un po', io ho la prima linea temporale numero uno, mi tippa da lui e vedo quello che ha fatto. Questo non è il vero Nico perché il vero Nico è da un'altra parte, però io posso vedere che cosa hai fatto, ok? E per 30 secondi ti vedo proprio, ovviamente non vedo che hai spaccato il legno perché chiaramente il legno, ragazzi, non c'è più. Ma grazie, ragazzi, sarà veramente fatto qualcosa di veramente fuori di testo. Dove sei Nico? Non ti vedo più. Allora, io ti ho trollato. Quello non sono io, sono andato dalla parte opposta. Ok, ma lo so che non sei tu perché tanto devo star fermo. Vedete, lui adesso scappa, vedete, si blocca a 30 secondi perché la linea temporale è finita e lui adesso sparerà in men che non si dica. Quindi dovrò cercare di utilizzare al meglio questo mio grande potere perché è un grande potere e da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Aspettavo che lo dicesse il ragazzo server, però vabbè. Io direi che quasi quasi posso iniziare. Ma erano due minuti? Eh, vi dico, mancano 30 secondi, però sai, io posso già iniziare un po' a girarmi in tondo giusto per fare qualcosina, no? Non so se mi piace questa idea. Potrei vedere cosa stai facendo. Allora, intanto, uh, bello questo fabbro, sai? Io ti dico che ho già iniziato perché sennò qua... Dai, va bene, inizia tanto, sono messo bene. Sei messo bianno? Benissimo, anzi. Quindi vuol dire che tu sei vicino a un villaggio e io se vado a cercare la tua linea temporale mi tippa 30 secondi prima di quello che stavi facendo. Quindi vicino a te. Ma me la utilizzo. No, no, me la voglio utilizzare un pochettino bene questa cosa perché se mi tippo subito, tu rischi di ammazzarmi, mi puoi rubare la roba. Quindi, eh. Ammazza? Ma io non faccio queste cose. Io il mio obiettivo è uccidere il dragon. No, sì, sì. No, ma infatti è ragionissimo, guarda, pienamente ragione. Io voglio buttarmi magari qui... Ma che brutto questa caverna. Che brutta. Brutta brutta questa caverna. Perché mi chiedi in caverna? Come mai? Perché voglio farmi un attimino un po' di tools, mi voglio fare un po' di ferro. Oppure mi tippo da te e ti ammazzo subito. Ah, potresti provarci. Secondo me è una cosa intelligente. Perché al momento io non ho nulla. Davvero? No, secondo me invece c'hai tipo una cetta in ferro perché te la sei fatta dal golem. No, non spreco il ferro del golem. Ma tu pensi che io sia stupido, vero? Ma tu pensi che io sprechi il ferro del golem per fare queste cose? Assolutamente sì. Ma tu non hai capito proprio nulla del mio strategia. Io ho capito tutto, ho capito tutto. E so solo che adesso mi faccio il ferro. Io ti aspetto nel Landal. Uh, ma sai che questo villaggio è interessante? Ho trovato tipo una mega caverna. Dimmi perché è interessante? Perché non ce n'è uno, bensì due. No, vabbè, è pazzesco. Veramente, veramente, veramente pazzesco. Sì, sì, prendimi in giro. Intanto sono full ferro praticamente, lo sai. Ma tranquillo. Guarda, anch'io sono veramente messo bene col ferro. Quindi tu devi stare proprio tranquillo con me. Io ti ho avvisato. Ma a te, tranquillo, ti devi stare. Io ti ho avvisato, stai attento quando è andato vicino a me. Ok, io c'ho un sacco di ferro veramente. Guarda che faccio già crafting table. Ci metto la cobblestone. Ci metto la fornacina. La fornacina. Ok, però no, no, non ho il call. Una domanda solo a illustrazione. Il cycle si può fare? No, non puoi fare il cycle. As usual. E come ammazzo un cosa che vuole? Un cosa che mi sa che ti dà un arcoforte. L'arcoforte ormai abbia capito che ce lo danno praticamente sempre. Quindi secondo me ho uscito abbastanza tranquillo che comunque te lo danno. Ok, hai fatto questo. Mettiamo a cuocere questo e questo. Io però quasi quasi vengo da te, sai? Ma dai, no. Giusto per vedere cosa stai facendo. Eh, ma secondo me adesso non... C'è un altro ferro. Non mi piace. Ho anche altro ferro qua. Ok, molto interessante. Faccio così, così. Io ho tutto. Ah, comunque c'è anche la visoria di Nico, raga, se volete vedere cosa sta facendo. Sarebbe bellissimo che YouTube mettesse qualcosa di interattivo per il quale possiamo scegliere che visuale guardare. C'è proprio direttamente dal video. Ti immagini che è figata? Sarebbe figo. Sarebbe impossibile secondo me. Ma quando mi vieni a trovare? Eh, un attimo. Tu dammi un attimino che qua sto a fare cose molto interessanti. Ah, ho capito. Però ho capito che un po' mi annoio, sai. Eh, no, ma guarda, io voglio arrivare carico. Cioè, non posso arrivare lì. A carico proprio. Ma non posso arrivare lì e morire tipo in 0-2, capisci? Ma non succede. Voglio essere abbastanza carico per darti fastidio. Cinque minuti, attenzione. Linea temporale. Marci sta per utilizzare la linea temporale, per caso? Ma adesso no. Sta per utilizzare. Ormai aspetti. No, 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 adesso mi avvicino a te. Sai che faccio? Mi pin, faccio una bella accetta in ferro. E questa cosa è interessante. Mi prendo. Aspetta, fammi togliere il coal. Cos'è almeno io prendo il ferro che ce l'ha in fondo e poi mi tipo da te. Sì, sì. Tu sei in caverna, per caso? Asso, blu, tamremple, no. Lo stai facendo di bello? Sono curioso adesso. E cosa si fa in una speedrun secondo te? Hot stuff. Stai andando nel Nether. Non si fanno queste cagli. Ok, ragazzi. Vado a vedere. Tu sei a 24 e 30. Voglio quella di 24 e 30. Vediamo dove me la mette. Olè! Devo riacciurire, ovviamente. 24 e 30 dov'è? Eccola qua. Bellissima. Ok, tu sei già proprio qua nel... nel portale. Quindi vuol dire che tu sei vicino qua. Sono già entrato io nel portale. Porca miseria, non è vero. Hai lasciato qualcosa qua dentro? Aaaaaah! No, 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 no! Scappa, marci! Scappa, 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 marci! Scappa, scappa, marci! Non eri full ferro che vuole di combattere contro di me? Eh, marci scappa! Eh, marci scappa! Oh, e dai! E non scappare! Diciamo che è storia comparando un po' tanta vita. Mettiamola così. C'è Regeneration? Eeeh, c'è Regeneration, mi sa, per un po' di tempo. E quindi non ha senso che ti inseguo? No, mi sa di no Vabbè, tanto quel portale non potevo completarlo, quindi andiamo a cercare un altro Ok Ma non muori davvero? No, non muori, sto recuperando vita Allora, siamo in pisful, non siamo in pisful, c'è uno scheletro Che cavolo è possibile? Vabbè, fai quello che ti pare, ciao Ciao Nico, guarda, non è vero che stavo perdendo vita Oddio, 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 oddio Dove sei? Ciao Ciao, voglio voler andare in questa qua esattamente Sì, vengo a te e ti ammazzo adesso Oddio, che ridere Quasi ilarioso Ilarioso, addirittura Eh, caverna cieca, eh, caverna cieca, com'è la tua esistenza Porca miseria Oh, però mi sembra arrivata la roba a me Solo per me, però, chiaramente Vabbè, tu sei morto e sei morto E ragazzi server, guarda, io ti chiedo una cosa Potresti trovare questa regeneration perché non è molto corretto per Nico? Ma qui ti rigeneravi? Sì, rigeneravo un botto, non è bello Ah, è vero No, non hai capito Non hai capito Abbiamo la saturation per dieci minuti Ok Anche tu ce l'hai, quindi Sì Hai già usato il temporary No, però mi sa che lo sto per utilizzare Per utilizzare quello di 22.30 Perché non vai nel nether, scusa? Eh, è a trovare la pozza 23.30 23.23 Guarda, quello di un minuto fa Utili No, ma questo è quando eravamo assieme Porca miseria, io so dove stai andando Mannaggia Hai commissione Potenzialmente Tu potenzialmente sei qua dentro Quindi Ok Dove cavolo sei andato? Brutto scemo Oh, ti vedo Mi vedi? Non sono io quello, eh Non sei tu? Non sono io quello Sei sicuro? Ah, abbastanza Ma in che bioma sei tu? Ok, non sei tu questo Eh, sono nella caverna di prima, campione Ma io lì, guarda Ci sono stato più o meno 20 minuti fa all'incirca Secondo me sei qua vicino tu Tu sei qua vicino e non me lo vuoi dire Ma che vicino? Ma che vicino è vicino? Io sono nel mio bioma della Big Vanilla Ti rendi conto? Sono molto Sono molto triggerato in questo momento Dai, un indizio Guarda Sì, ho capito L'ho capito Sto cuocendo il ferro Ah, io Mannaggia a te, mannaggia Più che altro che non trovo pozze di lava Quella cosa non è molto big Ok, io devo assolutamente trovare del ferro Assolutamente Io considero che ho finito il piccone in ferro Cioè il piccone in pietra Ah, ok, in pietra In realtà si è rotto Ma non so per quale motivo si sia rotto Vabbè, io ho messo a cuocere tutto il ferro che avevo Molto interessante come cosa Molto interessante Io in realtà stavo scappando da te Ma non ho tenuto in considerazione che tu ti tipi Io mi posso tippare Ma cioè Ma vai nel nether e muovete Muovete Ci si prova Ci si prova Ok, io mi do questo tempo limite Questi 30 secondi nuovi Per farmi Intanto sono full ferro praticamente Ok, molto bravo Non so se mi baste questo full ferro Ma prima faccio i gambali chiaramente Chiaro Io prendo anche No, al finito Se non mi serve Perché se tu tu fai il nether ci vado direttamente anch'io E devo essere abbastanza furbo nel fare una cosa Io ho in mente un'idea nella mia testa Una sola Una e una sola ne ho Ipo? Voglio fare una No, non te lo dico mica Scusa che non so Ma dai All'incirca Diciamo che Hai tosse? Tutto bene? Diciamo che voglio fare una furbata Una furbata Una furbata alla marci Diciamo Una bella furbata alla marci Sto prendendo fuoco? Aiuto Una bella furbata alla marci Ci potrebbe stare E ti dico Se vai in porto Tanta roba Veramente Veramente tanta roba Mi servirebbe giusto del diamante adesso però E pure il diamante Vogliamo Sì mi serve del diamante Facciamo così Ok Va bene Mi sono fatto full ferro praticamente Eh ma secondo me stai perdendo troppo tempo No 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 Ti fidi che non sto prendendo tempo? Ti fidi di me? Io posso fidarmi Io sono come Patrizio Chianese Lì com'è che si chiama? Ma c'è un problema Ma che tu non hai considerato Che se non ti tipi ora Non trovi più il portale Ma mi tipo direttamente nel nether Ok No No Dai Tu dici che Dici di no 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 Fai l'altra lei No ma va Ma ci mancherebbe Guarda riesco a fare tutto giusto Giusto tutto quello che voglio fare Ora vado sotto Mi prendo del diamante Mi faccio una cetta Una spada in diamante Chiaramente Più mi faccio un utile pezzo di ferro Che non è male Perché mi faccio lo scudo anch'io Chiaramente Ok Cavolo Però non riesco a fare Sia la testa Non riesco a fare la testa Ma la faccio in diamante La testolina Dai Ma come? Ma faccio in diamante la testolina Perché adesso vado in caverna Giù Non mi serve che sono troppo spazio No 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 Tra tutti i fili di me Ti sta la fila di me Io le linee temporali Le devo utilizzare bene E non fatte per male Ecco Quindi scendiamo E troviamo qualcosa Il tappo non ci serve Noi vogliamo il diamante Vogliamo il diamante È una tecnica Il diamante Oh non ci credo Non è vero Non è assolutamente vero Quanti ne hai trovati? Uno Ok no ce ne sono altri due qui Lo devo ammazzare questo Questo creeper Ho trovato? Oh wow Davvero bello Ok Spacca quanti ne ho Uno Uno Due Due diamanti ancora Guarda cosa appena Fai indato Va bene va bene Io cerco i diamanti tanto Adesso attualmente la mia tecnica Io devo essere Altri diamanti Ragazzi Ma non puoi fare Ful diamante Dai non è corretto Non è corretto Dai su La la lero La 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 Adesso vengo Nella fortezza La 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 Ti aspetto Altri diamanti Ragazzi Ma dai Ma di cosa stiamo parlando A parte che ne spawn Veramente tantissimi Di diamanti Cioè indecente Come cosa Qua c'è un Uuu Io recupero un sacco di vita Comunque Mamma mia Non stanno dando Nessuna blazerod Uuu Ok Ok A livello di tempo Dai ci sono Più o meno Sì dai Più o meno ci sei Non ho neanche una blazerod Vabbè adesso aiuto io No no Guarda grazie Ma non Una mela d'oro Ho trovato Attenzione Un po' di pane Mi chiamare il pane Bene vengo da te No Sto a venire Sto a venire Non è il momento La cespeta in diamante È molto meglio Della spada Sai Sì 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 Terrible Forte Non sono più lì Non sei più qua Però io voglio prendermi un blazerod Anch'io Perché vuoi prenderti un blazerod Eh Perché vuoi un blazerod Ma c'era sempre a forza un motivo Mi se ho preso una blazerod Però ho preso una blazerod Dimmi di no Sì Come sì No non l'ho preso Meno male Io penso lo spawner Però porca miseria Ma perché hai fatto Sta cavolata di abbazzarmi Perché eri lì Mi hai fatto paura Io C'ho la Io c'ho in testa C'ho la tecnica C'ho la tecnica in testa Allora Devo trovare un altro spawner Sto andando che ci sia Nico ha fatto into fire Per caso Ma io ho visto un bel into fire Però tanto Sì sì Ha preso fuoco Tanto è sempre questa La linea temporale Quindi mi ritipo qui Ma già è la linea temporale Certo Ogni minuto ce l'ho Porca miseria Ok Vediamo un po' dove Dove sei andato In Tunisia Dunque Il crimine si è andato Io ho bisogno di trovare Un'altra Blazerod No ti dico che ce n'è un'altra Però non ti dico dove ovviamente Dove sei adesso Ma parca miseria Nessun problema Tutto sotto controllo Tutto Under control Tutto sotto controllo Due blazerod addirittura E due su due È arrivato lui Dove sei? Che miseria c'è lo scudo Ok Via dalla mia palude Via dalla mia palude Diceva Shrek Vai via Vai Vuole morire No non mi shifti a me Vedete questo Oggi è proprio fastidioso Oggi è proprio fastidioso Va bene Vai a farti i cavoli tuoi Io vado a farmi i cavoli miei Mi sembra un ottimo compromesso Il cavolo si è andato Quante blazer ti mancano? 12 Ti vedo Non fare cose azzardate No no mai 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 Porca miseria Ti sento E ti vedo Dove sono? Eri lì Ho visto il tuo nome Ora non lo vedi più Ora non lo vedo più Ma eri lì? Oggi Sei proprio un burlone Eh Campione Devo provare a vincere Sì o no? Ma io ti percepisco Li senti i blocchi Che si spaccano Ahia Ok Ok Quanti te ne mancano? Eh Troppe Ancora Tante troppe Eh nella vita complicata Perché? Piegami Ti ho fatto qualcosa? No assolutamente Però Però cosa? Mi provo a vincere io Uh Pirla Pirla Si guarda dietro Eh Porca miseria Non ci voleva No Lo sugo ti parmi la te Lo shift Devi usare lo shift Non farti bene Eh no Campione Non l'ho usato lo shift Eh l'ho vista Che non è usato lo shift Allora non c'è visto Ok Dai ancora un blaze Ci sto battendo una vita Per colpa tua Fa sta roba Però fammi la vedo Non ce la droppa Non ce la droppa Ah Ha droppato? Ah ah Porca miseria Ah Vieni qui Ah qui Vieni qui Ah qui Ah qui Stai rigenerando tanto Per caso Sì un botto Stavolta Ah ecco perché Eh la scimmia è arrivata Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Cosa ha combinato Il nostro Marci Devo trovarmi un coso Ok questa può tornarmi utile Anche questa può tornarmi utile Serve un bastione Oppure abbiamo blu Hai già ammazzato tutto Le blaze rod Eh sì ma ho dieci minuti Non ce la faccio in tempo Ok perso Ti ho perso Ti ho letteralmente Perso Non cambia nulla Ora ti tipi tanto La conosciamo tutti La tua storia ormai Non è vero Dai ma dove l'hai trovato A fianco alla fortezza Ma sei un clown No non è vero Lontano dalla fortezza Devo assolutamente fare una cosa Devo assolutamente fare una cosa Aspetta Ho un'idea Però deve funzionare ragazzi Perché è pesantissima come cosa Ok ho un'idea Ho un'idea Ti prego Ti prego Mi sembra che la dia questa parte Mi sembra che la dico Eccolo 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 Io non me lo ricordavo Così tanto difficile minecraft Comunque Oh turist Perché sono finito Vero sopra la fortezza Sei sopra la fortezza Sì sì sono sopra E che ci fai sopra la fortezza Devo fare una roba Cover me with diamonds Ma che caso stai dicendo È il bastione È stato il bastione Porca miseria Oh mi stanno distruggendo Muori Quanto tempo ho? Sei minuto Non ciò parlo Mai È il terzo che uccidono Ma cosa stai Ah ho capito cosa stai facendo Ho capito cosa stai facendo Qualcosa sto facendo Eh sta andando nel Nel cosa prima di me Eh sì Ci sta Ci sta Ci sta È una buona È bravo È bravo È bravo Marci quando fa queste cose Si vede che si impegna Due ender per di colpo Potrebbero servire Sì mi bastano Mi ammazzo Mi ammazzo Ok Allora Oro Scambiate Ok 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 Odi i guerrieri Ok ragazzi Questa è l'ultima L'ultima cosa che posso fare Devo avere un po' di fortuna Chiaramente Devo avere un po' di fortuna Chiaramente Un po' di fortuna Vamos Vamos Uh ok Questa cosa è buonissima È buonissima È buonissima Devo andarci Ora facciamo così Vabbè qui posso andare senza Senza barca Eh sei avanti a me Aspetta 5 minuti e 20 Ce la puoi fare Considera che entri nel land E ti blocca il timer eh Quindi se hai ancora tanto tempo Per far tutto Devo farmi il portale qua Per uscire Hai trovato l'ender per tutte? Eh no Ancora no Soltanto l'ossidiana Ok Perché mica perché Non è male però Dimmi che sono 12 Io ti giuro Sono in difficoltà Perché mi sembra impossibile Che siamo così lontani Ha cambiato direzione Due secondi fa Rivediamo Io ho 12 ender Però me la rischio Continuo a cambiare direzione Continuo a cambiare direzione Ma non capisco dove cavolo hai Porca miseria Altre ender per le Fammi vedere quante sono Guarda che io ci sono eh Sono sulla wave 4 Vabbè dai me ne faccio passare Posso farmi un portale? Lì mi sta picchiando Ma cosa vuoi? Magari sei anche vicino tu eh Ma guarda Magari Considera che è lontano lontano La fortezza Da dove abbiamo fatto il coso Ok Sono uscito dal È un brutto end È un bruttissimo end Ok Più meno le tue coordinate quali sono? Continuo a cambiare direzione Ok Ok ce l'ho Eh sono più o meno A mille meno mille Non sono lontanissimo eh Se sono davvero a quelle Non sono lontanissimo Sì Sono mille meno mille Ho controllato Sono a mille meno mille Ok l'ho trovato Ma è difficilissima sta cosa Come faccio? Aspetta un'idea Devo andare giù così Devo fare così Così In caso sei in un bioma innevato tipo? Io no no Sia mai Sia mai proprio Sia mai No no onestamente Sei in un bioma innevato? No però sono Sono simile al bioma innevato Mettila così Ah Simile Quindi un po' Un geme tipo Ah da questa parte qua Ok 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 L'occhio sta cambiando direzione Molto velocemente E che cosa significa? No Che sono vicino Spacca 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 marci Sei per caso In un ice spike? O in un bioma comunque di ghiaccio? Ci siamo eh Ci siamo Eh ci siamo Adesso è tutta Si gioca tutta qua Si gioca tutta Si gioca tutta letteralmente qua Però non ho visto il torcimento del portale Quindi ancora non l'hai trovato Ancora non l'ho trovato No Ancora non l'ho trovato Sali qua Tempo ancora Due minuti Dove entrare in due minuti nel nether Le land? Eh secondo me Secondo me è bella tosta Secondo me è bella tosta Non l'hai chiuso il buco Immagino Si l'ho chiuso Bene Questa cosa non ci voleva Questa cosa non è buona fatta Ok Se noi possiamo andare leggermente avanti Rispetto al timer Io ho visto un pillar di netherrack in realtà Eh ma lì ho chiuso poi Sono sceso e ho chiuso Un minuto e trenta Un minuto e trenta Attenzione ragazzi Attenzione Puoi scendere di lato C'è un altro buco comunque Un altro buco? Si secondo me si c'è un altro buco Sto sprecando tutti gli occhi Porca miseria Trovato Non ci credo Ok Sei qua sotto? Ok ce l'ho Mi serve il 4-4 4-4 È sott'acqua Porca miseria Hai spy? Ma il tuo nome su minecraft è Madame Marci? Porca miseria Hai spy Per caso Madame Marci il tuo nome su minecraft? Non ti pare Dove sei? Ah boh Dove sei? Ho visto che eri qua Dove sei? Io non Porca miseria Dove sei craftare gli ultimi occhi Dove sei? Craftati? Oui 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 Le je son fait Aiuto Aiuto Questo non è B2 Uno Ma dove sei? Ma sei sopra? Ma quanto Come fai a non morire? C'è da Regen Sto amando È da Regen Brucia Brucia Aia si brucia No Sì Sì A un secondo Non ci credo Sì Mamma mia Quanti te ne mancavano di occhi Tu lo sai che bloccavi il tempo? Cioè bloccavi il tempo in due secondi Guarda che ci avevo giusto Guarda Sì Mamma mia Non è Vai giù va Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video A farci tutto Queste linea temporale sono state bellissime Ora vado in una linea temporale a 22 minuti Ah no È finito il tempo Non posso farlo Vabbè Ciao